Il copolavoro dell'artista che avvivo Alton Valdick in Accademia Carrara, un copianto su Cristo. L'artista è uno degli autori più importanti della prima metà del Seicento e è rappresentato con un'opera che trae nutrimento dalla cultura italiana sia rinocimentale che seicentesca, un'occasione imperdibile per il pubblico che rimane in città per il periodo estivo. Il 18 settembre pensiamo sia una proposta nuova che abbia un percorso dedicato alla pittura europea e chi meglio di Alton Valdick che tanto ha tratto e guadagnato dal confronto con la grande pittura italiana.